Europee e regionali sono alle porte, questa è la sfida più immediata, no sindaco? Sì, che non è legato all'operazione di oggi, ma assolutamente sì. Ormai io entro nell'ottavo anno di mandato, fra due anni e mezzo non sarò più sindaco di Napoli. Io credo che portare esperienze come queste in Europa, a Santa Lucia e nel nazionale significa rafforzare un'esperienza che mi rende orgoglioso. Io sono stato due giorni a Rimini, all'Assemblea Nazionale dei Comuni Italiani e vi posso assicurare, lo dico veramente con umiltà, ma anche con tanta orgoglio e determinazione l'esperienza napoletana viene vista come un punto di riferimento. Quindi questo significa che Napoli, Napoletani, la nostra amministrazione è andata ben oltre i confini di Napoli e siamo a disposizione di un progetto che mette al centro persone, diritti e Costituzione Repubblicana. E quindi ci saremo per tutte le sfide che dalla primavera prossima attraverseranno il nostro Paese.